ciao a tutti allora se mi seguite su instagram probabilmente avete già visto che ho realizzato l'incastonatura di questo cabosciano questo è un cabosciano che feci veramente tantissimi anni fa con la pasta polimerica e le misure sono 25 x 18 e poi ho fatto questa incastonatura molto semplice con un solo colore di perline utilizzando due misure 11 0 e 15 0 le tecniche che ho utilizzato sono la netted e la right angle weave quindi ho mescolato queste due tecniche e ottenuto questa incastonatura molto semplice che appunto gioca un po sulle dimensioni delle perline per dargli un po di movimento adesso siccome devo realizzare una decorazione tutta intorno al cabosciano ma non volevo aggiungere altre perline sulla struttura qui intorno dell'incastonatura ho pensato di fare una forma tridimensionale anche qui che si chiama la folded leaf fatta con la tecnica peyote sarebbe una sorta di foglia se non conoscete questa forma vi lascio un tutorial veramente molto molto chiaro non è uno dei miei tutorial però vi ripeto veramente è inglese ma dategli una chance perché le riprese sono talmente chiare ed evidenti che si capisce perfettamente quali sono i passaggi da fare per realizzare questa forma e l'idea è quella lì di mettere praticamente il cabosciano all'interno di questa di questa struttura diciamo tridimensionale adesso un po difficile magari mostrarvi la cosa però in questo modo perché poi ovviamente questa parte qui verrà allungata sarà della stessa lunghezza di quest'altro lato e poi verranno collegate in modo che ci sia questo effetto un po girato su se stesso no quindi riusciamo a vedere entrambi i lati della lavorazione che è fatta di due colori diversi ogni lato ha un colore soltanto che mentre stavo lavorando a questa folded leaf mi sono accorta che già per esempio collegando i due lati della creazione in questo modo si ottiene una lavorazione veramente carina una forma veramente particolare che potrebbe essere un grazioso orecchino oppure ancora mi sono accorta che se io arrotolassi questa parte più lunga magari anche allungandola un pochino e poi la collegassi con il lato più corto magari andando ad allungare un pochino anche quello però guardate che carino l'effetto che viene molto molto grazioso anche questo potrebbe essere un orecchino carino tra l'altro giocando anche con i colori si ottengono degli effetti interessanti ecco quindi volevo semplicemente darvi qualche ispirazione mentre io andrò a completare la mia folded leaf poi vedremo se magari sarà il caso di fare altri tentativi appunto con queste forme andando un po a lavorare sulla posizione dei due lati della creazione quindi lavorando o sulla simmetria oppure addirittura ecco appunto sull'allungare talmente questa parte da poterla curvare fino a collegarla all'altro lato della realizzazione vi lascio con questa con queste ispirazioni sperando che siano tali e poi ci risentiamo al prossimo video va bene a presto ciao ciao